Padre e figlia di etnia Sinti, provenienti entrambi da un campo nomadi nel Vicentino, sono stati arrestati dai militari della compagnia Carabinieri di Fano per furto aggravato in concorso. Bottiglie di champagne, 5 bottiglie di pregiato cognac del valore di oltre 250 euro e numerosi capi di abbigliamento ed altre bottiglie di liquori. Questo il corposo bottino dei due. 57 anni il padre, con una sfilza di precedenti, sempre per furto, e 28 anni la figlia. I due avevano rubato dai negozi della Fano Center, eliminando le placche antitaccheggio con uno strumento da scasso, trovato poi dai militari nella borsa della donna. Padre e figlia erano stati notati dalla vigilanza interna per i loro atteggiamenti sospetti ed oltre a tenerli d'occhio, gli uomini della vigilanza hanno anche avvertito i Carabinieri che si sono fatti trovare all'uscita del centro commerciale. La 28enne portava via le bottiglie di liquori dagli scaffali dopo aver tolto l'antitaccheggio grazie ad una cartuccera fatta appositamente e legata in vita, nascosta con abiti voluminosi nella quale poteva portare via anche 5 bottiglie alla volta. Nell'auto poi i Carabinieri hanno rinvenuto altra refurtiva rubata in un negozio sempre di abbigliamento nella galleria. Nella mattinata di oggi il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l'arresto con rito per direttissima e condannato il padre a 10 mesi di carcere e la figlia a 6 mesi, oltre che a una pena pecuniaria di 400 euro.